Buongiorno, ben trovati ad una nuova diretta di mattina live. Iniziamo la nostra giornata facendo un largo focus sulla politica su tanti temi di scenario nazionale ma anche quelli di carattere regionale partendo tra l'altro quest'oggi da un'emergenza che colpisce sempre di più la nostra città ovvero il tema dei senza fissa dimora. Una situazione sempre più complicata di cui oggi faremo il punto della situazione con il nostro primo ospite. Quindi diamo il buongiorno a mattina live a Roberta Gaeta consigliera regionale del gruppo Europa Verde Demos nonché coordinatrice regionale democrazia solidaria appunto Demos. Ben trovata, buongiorno. Senta, grazie di essere qui con noi perché con lei affronteremo questa emergenza che colpisce sempre di più oramai la nostra città ovvero parliamo dei senza fissa dimora, una situazione che sembra sempre più allarmante e purtroppo sempre più fuori controllo. Come siamo però arrivati fino a questo punto? Facciamo un passettino indietro e cerchiamo di capire qual è la situazione e perché siamo giunti ad uno status così terribile. Sì, intanto la situazione dei senza dimora in generale in Italia ma in tutto il mondo, nelle grandi città è molto peggiorata anche successivamente al Covid. La povertà oggettivamente è peggiorata, quindi molte persone si sono sentite anche molto disorientate perché le istituzioni stesse hanno avuto molta difficoltà di intercettare la povertà e quindi il bisogno. Quello della strada è il bisogno estremo, quindi la povertà è estrema. Devo dire che ci sono tantissime misure, quindi anche risorse per far fronte a questo problema. Forse una cosa che manca e che quindi provoca in parte questa emergenza terribile per le persone e per i territori è forse una mancanza di programmazione e di conoscenza profonda del fenomeno e anche delle necessità e del cambiamento. Quindi un po' a volte si brancola nel buio ed è un po' anche la sensazione di questo momento, cioè il non riuscire a mettere in campo delle azioni programmate e integrate tra loro che effettivamente potrebbero far fronte a tante difficoltà che quotidianamente viviamo e che rendono anche il nostro territorio particolarmente difficile da affrontare perché siamo combattuti tra la difficoltà del vivere territori effettivamente anche, come dire, degradati dalla situazione, non di certo dalle persone, ma dalla situazione di povertà e nello stesso tempo rispondere alle esigenze di queste persone. Come diceva lei, è una situazione che va sempre più in peggioramento, lei però tra l'altro conosce molto bene la città perché è stata anche assessore al welfare del Comune di Napoli. Allora io le chiedo con un occhio un po' più attento e anche guardando un po' indietro al passato, secondo lei il Comune poteva fare qualcosa di più per invertire questa emergenza sociale? Come ricordava lei, è un'emergenza che coinvolge anche tantissimi clochard che oramai sono davvero presenti in più punti, in più luoghi della nostra città. Allora, effettivamente sono stata assessore per sei anni e mezzo, quindi un periodo molto lungo in cui è stato possibile anche programmare delle azioni pur non avendo le risorse necessarie per poter mettere in campo tutte quelle azioni. Perché prima parlavo di programmazione? Perché la programmazione è alla base, le risorse economiche poi si riescono a recuperare in qualche modo. Oggi queste risorse economiche ci sono, esistono, sono assolutamente destinate a fronteggiare questa situazione così complicata e quindi io mi aspetto, anzi in prima persona ho suggerito, ho incontrato il sindaco Manfredi, ho suggerito di mettere in campo quella strategia, chiaramente migliorandola. In queste ore c'è un tavolo importante a Roma che vede proprio le tre grandi città di Italia attorno al tavolo con il ministro per affrontare anche questo problema. Ecco, quello che io penso è che ci vuole il coinvolgimento degli enti, delle associazioni, ci vuole una grande programmazione ma soprattutto una grande conoscenza. Quindi bisogna scendere nei territori, capire come riuscire a dare risposte anche adeguate, diciamo, non soltanto di immagine. Esatto, lei che risposta però darebbe per invertire la situazione, per migliorarla almeno al momento, anche perché, lo ricordava lei, questo è un fenomeno di carattere non solo territoriale e regionale ma di carattere nazionale e che quindi è una tendenza che non riguarda sulla nostra città di Napoli. Effettivamente è un problema che coinvolge l'intero paese ma qual è la strada da percorrere per migliorare il fenomeno al di là della conoscenza, al di là proprio del conoscere il fenomeno in sé per sé dal punto di vista sociale e poi naturalmente la città, il territorio su cui questo fenomeno avviene. Certo, la conoscenza di cui parlavo chiaramente era una conoscenza pratica. Come si fa ad accogliere persone che fanno fatica ad allontanarsi da quei territori specifici? Esatto. Perché questo è uno dei grandi problemi. Sapendo che appunto loro non si allontaneranno, preferiranno stare per strada ma essere vicini tra loro, aggregarsi perché così si sentono meno soli e meno in pericolo. Quindi anche quando si mettono in campo delle misure d'emergenza come allestire anche una tenda, un locale particolarmente grande dove è possibile proprio accogliere in emergenza per la primissima soglia, quindi basta soglia significa proprio la primissima accoglienza, bisogna farlo in zone che loro riconoscono familiari. Quindi attrezzare delle aree lontane da loro chiaramente non è una misura efficace. E in questo ci vuole quindi una conoscenza vera del territorio e questa conoscenza del fenomeno. Per riuscire ad entrare in empatia anche con gli stessi. Esatto. E si costruisce. Quindi non può essere fatto l'intervento così calato dall'alto perché è inefficace. E poi ci vuole una maggiore collaborazione tra i vari settori, tra le varie aree. Ricordo molto bene quanto era difficile fare degli interventi. C'era bisogno chiaramente di una collaborazione da parte della SIA, quindi di Napoli Servizi, dei servizi sociali, della Polizia Municipale. Ci vuole una partecipazione dei vari attori se si vuole essere efficaci. E le associazioni di volontariato e non soltanto di volontariato sono assolutamente fondamentali. Anche da assessore io andavo personalmente con loro perché sono loro che vengono riconosciuti con fiducia. Quindi abbiamo bisogno di tutto. Ma poi c'è bisogno di strutture. Quindi strutture dove accogliere evidentemente anche soltanto per la notte. Quello accogliere per la notte diventa il primo passo per familiarizzare, per affidare, far affidare le persone e passare al secondo livello. Intanto, restando proprio sul tema, sono state da poco assegnate da parte della Regione le graduatorie provvisorie per le assegnazioni degli alloggi popolari. Sicuramente questo è un ottimo passo da questo punto di vista, però anche in questo caso le chiedo come bisognerà procedere. Intanto ci vorrà tempo. Ci vorrà tempo perché questa misura che è stata messa in campo è davvero importante. Io stessa mi sono fatta portavoce in consiglio della richiesta anche di informazioni ai cittadini. Richiederà dei passaggi, dei passaggi amministrativi e burocratici. Il prossimo qual è? Il prossimo è che i comuni rendano noti gli immobili che sono disponibili o che comunque non sono disponibili in termini di occupazione, perché potrebbero già essere stati occupati, ma che sono comunque destinati o da destinare. Questa è una parte fondamentale. Senza questa, chiaramente, non ci può essere poi il passaggio successivo. A quel punto poi sarà necessario che si trovi una sistemazione definitiva per quelle persone che sono lì, già in quelle abitazioni, o comunque trovare delle soluzioni alternative. Senta, cambiamo argomento. Mi sposterei con lei anche un po' su quelle che sono le notizie positive, le belle notizie, le manifestazioni, per esempio, partite da Scampia in particolare, quindi che riguardano sia la nostra città, ma nel preciso una manifestazione di pace partita da Scampia, in cui lei ha preso parte. E questa manifestazione è sicuramente un messaggio positivo anche per il governo. Io credo che oggi bisogna posizionarsi con chiarezza. Scampia, come tutte le marce della pace, le manifestazioni per la pace, hanno rappresentato una volontà popolare. Scampia è forse un pizzico in più, perché è partita dal basso. Questa definizione è un po' sentita, un po' forse abusata anche, partire dal basso. In questo caso credo che sia assolutamente appropriata, perché gli abitanti di Scampia, come in tante altre occasioni, si sono attrezzati, quindi anche a spese loro, si sono organizzati, hanno fatto un passaparola. C'è una rete per la pace. In quel territorio è particolarmente importante, perché è stato un territorio di guerre, di guerra e di guerre. Ha un significato simbolico aggiunto, no? Assolutamente. Il fatto che questa manifestazione di pace partita proprio da Scampia, la volontà, come ricordava lei, che parte dal basso. La voglia è di abbattere quelli che sono le barriere, ma anche di eliminare tutti quegli stereotipi. Di contrastare anche con la pace e la guerra. Non è una frase scontata, nel senso che è chiaro che tutti riconoscono l'Ucraina come paese occupato, e quindi si fa quasi fatica ad accettare un concetto di pace, che invece parta dal riuscire a riconciliarsi. Ma le grandi guerre, le grandissime guerre, le grandi discriminazioni, anche se pensiamo al Sud Africa, nascono dalla riconciliazione, quindi dalla pace. Scampia è stato un territorio di riconciliazione con se stesso e quindi di rinascita vera e propria. Di vero e proprio riscatto. Di riscatto. Di riscatto sociale e adesso stiamo notando anche un vero e proprio riscatto culturale. Assolutamente. Attraverso la cultura, attraverso lo sport, Scampia si sta totalmente riqualificando. Ed è bello per l'appunto che questa manifestazione di pace parta proprio da questo luogo per tutti i significati che anche lei Pocanzi ha ricordato. Un messaggio di riconciliazione, di pace effettiva. Senta, restando però proprio sul governo anche, spostandoci a quelli che sono anche un po' i temi nazionali, io vorremmo conoscere anche un po' il suo pensiero circa l'autonomia differenziata, perché dopo il rinvio della settimana scorsa si dovrà tenere questa conferenza unificata, Stato, Regioni e Comuni. Io le chiedo se secondo lei questa legge si farà oppure no. Allora, io spero assolutamente di no. E stiamo mettendo in campo una serie di azioni anche informative, perché è un tema che si conosce poco. Quindi grazie anche per questa domanda. Perché l'opinione pubblica chiaramente non conosce tutti i risvolti assolutamente devastanti, direi, per il nostro paese, per l'unità d'Italia, ma proprio per il Sud e per l'intero paese. Non è un caso che l'Europa abbia voluto con determinazione, con chiarezza, investire risorse del PNRR proprio al Sud. Quindi anche riconoscendo il Sud come il luogo che in qualche modo ricongiunge anche agli altri paesi, all'Africa in particolare. Quindi grande battaglia ad una posizione che è assolutamente negativa per l'intero paese. Per il Sud sarebbe davvero devastante. Tra l'altro sul tavolo delle critiche c'è anche il tema scuola, il rischio di questo mondo, se possa essere sicuro. Un settore che tra l'altro la Campania già vive con enorme difficoltà, tra dispersione scolastica e anche povertà educativa. e ci chiediamo se la scuola poi sarà sicura in relazione al tema dell'autonomia differenziata. Certo, scuola, sanità sociale, territori, trasporto. È un rischio enorme, in parte già lo viviamo, perché esiste anche un riparto che è un riparto purtroppo basato sulla spesa storica. E in questo il nostro presidente della regione si è fatto sicuramente portavoce di questa grande battaglia. Quindi noi abbiamo avuto negli anni una riduzione sempre maggiore di risorse che in realtà aspettavano al Sud e alla Campania in particolare. Quindi questa è una situazione che ha creato una disparità, un'iniquità anche del paese, e che purtroppo una cecità dannosa per tutti continua a voler vedere il Sud come un attraino del Nord, cosa che è completamente diversa. Quindi si è voluto in qualche maniera, e quindi in questo sono assolutamente chiara e netta, si è voluto in maniera deliberata che il Sud vivesse questa arretratezza. Quindi dobbiamo combattere e lottare perché questo non continui nel tempo. Grazie, grazie per essere stata qui con noi, noi le lavoriamo, buon lavoro e il buongiorno. E ben trovata ancora la nostra ospite della giornata, Roberta Gaeta, consigliera regionale del gruppo Europa Verde Demos e coordinatrice regionale Democrazia Solidale. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie infinita. Ci vediamo tra pochissimo, restate con noi, pubblicità.